Allora, la coppia è terribile, peschi dati, qual è la condizione? La condizione è buona per questo campionato italiano, speriamo di far bene. La sentiamo anche dopo peschi dati, oggi vedremo ancora una doppietta. Spereremo di vedere una doppietta, sarà molto dura perché c'è tutta l'Italia qua a correre e sicuramente abbiamo una forma ottima ma mai sottovalutare gli avversari. Bocca al lupo.